Vestirsi come Victoria Beckham? Ecco i trucchi da seguire . È la quintessenza dello chic, lo stile di Victoria Beckham. Uno stile da vera lady, quando calca il red carpet, quando presenta una sua sfilata. . Quando esce a cena col marito David, o quando viene paparazzata durante una giornata di shopping o un pomeriggio coi suoi figli. Il suo look non è mai scontato, e ogni accessorio è abbinato alla perfezione. . Ma quali sono i suoi segreti, per essere sempre così impeccabile? Mai senza t-shirt bianca. Non ha mai un capello fuori posto, Victoria Beckham. E, anche quando veste casual, ogni dettaglio del suo look è frutto di uno studio approfondito. . . Che indossi una jump suite in seta o un maglione over, la sensazione a vedere le sue foto è che ogni capo sia esattamente dove deve essere. . Del resto, nelle vesti di stilista dell'omonimo brand, ha dato prova di avere un grandissimo gusto, osannato perfino da un mostro sacro della moda come Valentino. . . La sua ultima collezione che ha sfilato anche alla New York Fashion Week è una raccolta del suo concetto di stile, e non si può che innamorarsene. . Dopo averla ammirata nei suoi tutorial beauty, Victoria Beckham si conferma se mai ce ne fosse bisogno una delle più grandi fashioni conviventi. E scatta la voglia di copiarne il look. . . . Ma quali sono i suoi pezzi forti, quei capi da avere nell'armadio per assomigliare, o almeno provarci, alla moglie di David Beckham? Quando vuole vestire casual, non manca mai la t-shirt bianca, al massimo sostituita da una camicia, anche questa candida. . 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